Oltre 8.700.000 euro a 53 enti locali, tra Comuni ed Unione dei Comuni, per le calamità naturali che hanno devastato diverse zone dell'isola tra il 2018 e il 2022. Sono i fondi che la Regione, ha sottolineato il Presidente Cristian Solinas, ha stanziato a sostegno delle comunità locali colpite, a causa di eventi meteorologici straordinari come precipitazioni eccezionali, forte vento, grandinate e siccità che hanno costretto numerose amministrazioni locali a chiedere lo stato di calamità e a provvedere con interventi in urgenza, con pesanti conseguenze sui precari bilanci comunali. I fondi consentiranno ai Comuni e altri enti locali di attuare interventi strutturali per la riduzione del rischio residuo, per il ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza in alcune delle aree devastate. La Protezione Civile Regionale ha ricevuto le istanze di contributo ed esaminato la documentazione necessaria per accertare l'ammissibilità delle spese sostenute. Sono stati eseguiti i sopralluoghi e concluse le verifiche tecnico-amministrative di rendiconti presentati da 18 comuni per un importo complessivo di 837.813 euro. Per altri 21 enti locali, ha dichiarato l'assessore regionale della difesa all'ambiente Marco Porcu, si stanno concludendo gli istruttori pari a 2.822.367 euro. Infine, per altri 18 comuni, è stato già possibile effettuare una prima stima di danni e dei relativi costi necessari per l'esecuzione delle opere e degli interventi in emergenza per un importo complessivo di 1.015.000 euro. Queste ultime somme sono, ovviamente, suscettibili di variazioni in base alla rendicontazione che verrà presentata. Tra i 53 comuni ed enti locali beneficiari, per quanto riguarda il Sulcis e parte del Caglieritano, ci sono anche Fluminimaggiore, Teulada, Sant'Antioco, Sant'Anaresi, Quartuccio e Capoterra. Inoltre, presso la Protezione Civile, sono stati istituiti due fondi per fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi del 28 novembre 2020. Uno per i soggetti privati e le attività produttive, l'altro per gli interventi sul patrimonio pubblico. Per gli interventi più urgenti sul patrimonio pubblico e per scongiurare il pericolo imminente di ulteriori danni, con particolare riferimento alla viabilità extraurbana, ha evidenziato l'assessore, abbiamo sanziato oltre 4 milioni di euro, destinati in particolare a Galtellì, Lodè, Lula e Nuoro. Per altri interventi strutturali, sempre nelle aree interessate dell'evento calamitoso del 28 novembre, saranno disponibili ulteriori risorse, circa 11 milioni di euro, che saranno programmate con un successivo provvedimento dell'aggiunta regionale.